Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la cultura finanziaria, la cultura si fa finanza. Io sono Luciano Locasto, strategist dell'Istituto Svizzero della Borsa. Oggi siamo sul portale dell'Istituto Svizzero della Borsa per presentare il servizio dei quattro portafogli. E' qui con me un amico, un collega, un professionista, un professionista noto a livello internazionale, autore dei quattro portafogli, autore di innumerevoli percorsi di formazione, di alta formazione. Quello da me definito uomo in ciclopedico è il signor Daniele Lavecchia. Buongiorno Daniele. Buongiorno Luciano, buongiorno a tutti. Ciao Daniele. Allora, in questa sessione vedremo le caratteristiche dei quattro portafogli e ovviamente approfitteremo della tua formazione e delle tue competenze per capire cosa sta succedendo sui mercati. Come recita il titolo, dall'euforia al crollo, la gestione di un professionista in un momento delicato del mercato. Perché stiamo vivendo un periodo davvero molto particolare. Solo le commodities e il dollaro hanno retto al crollo che si è verificato e sta verificandosi a questa situazione particolarmente ambigua. Vorrei quindi che tu ci dicessi la tua innanzitutto sui mercati e ci mostrassi poi, pian piano, addentrandoti di volta in volta nelle caratteristiche dei quattro portafogli, date e condotti. Ti assegno quindi il controllo dello schermo, Daniele. Ecco qua. Mi vedete? Perfetto, sì. Allora, i mercati azionari come stock market soprattutto sono passati, come hai detto tu, giustamente dall'euforia al crollo più completo. Diciamo che è qualcosa che annusavamo un po' da qualche tempo e temevamo da un po' di tempo a questa parte che potesse verificarsi. Devo dire anche il crollo è una cosa abbastanza normale quando si tratta di posizionamenti che da tantissimo tempo stanno andando in direzione rialzista e naturale che poi dopo in situazioni di stress, in situazioni di difficoltà vadano a crollare e a cadere. In questo senso ce lo aspettavamo e può essere una grandissima opportunità per investire. In particolare io andrei a fare un'analisi giusto per capire che cosa sta succedendo adesso sui mercati azionari. Vi metto davanti allo schermo quello che abbiamo visto succedere in questi giorni sul mercato azionario americano con il crollo dello Standard & Poor's 500 che abbiamo visto crollare dai massimi di periodo, massimi assoluti, fino a questa zona che è una zona secondo me molto importante e cruciale. Allora guardate ci troviamo intorno al supporto a 4.260, abbiamo visto una grandissima reazione da parte dello Standard & Poor's 500 e di molte azioni proprio su questo supporto. Questo aspetto è importante perché probabilmente ha perlomeno momentaneamente bloccato la caduta. Diciamo che perso questo livello centrale automaticamente potremmo vedere il mercato azionario crollare ancora di più. La nostra situazione è un po' questa, ci sono una serie di indicatori che possiamo naturalmente esaminare, che possono darci degli spunti interessanti di riflessione. La situazione però che possiamo esaminare prevalentemente nel mercato è questa, c'è una situazione di ripiego da parte di tutti i mercati. Guardate il Dow Jones, stesso livello, stessa caduta. Guardate il Nasdaq, addirittura ha perso il livello nella giornata di ieri e oggi sembra volerlo riprendere, almeno stando a vedere i future. Andiamo a vedere il DAX. DAX che è crollato, è arrivato sul livello che è intorno ai 15.000 e di qua sta rimbalzando. Naturalmente queste sono fasi parziali perché bisognerà vedere poi nel proseguo delle giornate come andranno a muoversi i vari indici. Andiamo a vedere il mercato italiano che è stato per lungo periodo il più brillante insieme a quello inglese e a quello francese tra i vari mercati, addirittura internazionali parlo. Quando guardiamo il mercato italiano lo troviamo, lo vedete, un po' più rialzista rispetto agli altri mercati, come vedete. Vedete che ha già reagito intorno alla media mobile a 200 periodi, questa media mobile esponenziale a 200 periodi, mentre gli altri avevano già bucato ed erano sull'area del supporto che è il supporto che divide un mercato rialzista da un mercato espressamente ribassista, dal quale difficilmente ci si può, nel caso venisse perso questo supporto, riprendere nel breve termine. Abbiamo per esempio l'indice giapponese, il Nikkei 225, anche questo nell'area del supporto l'ha perso, poi oggi sembra volerlo riprendere. Diciamo che quello che sta emergendo è proprio quello che dicevi tu Luciano, pochi asset si stanno conservando rialzisti in questo periodo. Vi mostro, proprio a argomentare questo che abbiamo detto, l'indice che ho creato che viene chiamato Wyckoff Position Index, di cui avremo modo di parlare in futuro, che spezza il mercato in quattro quadranti, vedete, un quadrante in alto a destra completamente verde, sia nella forza di breve periodo, sia nella forza di brevissimo periodo, nel quale vanno a essere racchiusi tutti quei settori agli asset più forti del mercato, quelli che guidano il mercato, quelli che possono essere considerati rialzisti e quindi acquistabili. Nel quadrante in basso a sinistra troviamo invece, vedete, rosso e quindi ribassista la forza di breve periodo e nel brevissimo periodo altrettanto una forza rossa. Per breve e brevissimo periodo diciamo che inquadriamo in questo grafico un orizzonte temporale di circa uno o due mesi, quindi stiamo osservando questo orizzonte temporale. Ogni punto del Wyckoff Position Index, che si basa sugli studi di Wyckoff, che io poi ho rielaborato e ne ho fatto un indice per esaminare i mercati, ogni punto, compresa la freccia, che è un ulteriore punto direzionale, rappresenta un giorno. Quindi in questo caso stiamo guardando un giorno e in questo altro caso stiamo guardando un giorno. Allora, da questa prima velocissima schermata potete innanzitutto vedere che ci sono solo due elementi che si mantengono nel quadrante della forza e sono l'indice del dollaro, il cosiddetto dollar index e questo i share, questo ETF sulle commodities, ok? Quindi commodities e dollaro sono l'unica cosa che hanno retto all'urto di questi giorni, un urto importante. Diciamo sul mercato azionario abbiamo anche un calo molto importante persino sugli indici che sono delle medie, quindi non è che si spostino in maniera così pesante. Vediamo una caduta del 10%, addirittura una punta massima del 12%, d'accordo? Per quanto riguarda tutto il settore obbligazionario che troviamo qua elencato in leggenda e troviamo qua ulteriormente rappresentato, evidentemente abbiamo una situazione anche di debolezza. C'è una minima ripresa, ma non una ripresa tale da far pensare che ci sia una fuga dai capitali rischiosi dell'azionario. Il mercato azionario è questo che vi mostro adesso, guardate questo qua, vi mostro anche la traccia, proprio il percorso che ha seguito l'azionario in quest'ultimo periodo a partire da circa ottobre a questa parte. Vedete com'è stato inesorabile la caduta del mercato azionario, veramente diretta verso i minimi. Questo evidentemente è un aspetto importante da considerare perché il mercato azionario quest'anno ha mancato il rally di fine anno, probabilmente perché era troppo alto, probabilmente per la pandemia che ha impattato in maniera molto importante il mercato, ma ciò nonostante, considerato tutto questo, il mercato è sceso, nonostante ci attendessimo tutti un rialzo importante. L'unici asset che stanno in qualche modo tenendo, e stanno tenendo già da un po', come vedete sono tutto il comparto delle commodities che poi andremo a vedere nel dettaglio e sul quale secondo me ci saranno delle belle occasioni e poi il dollaro che dopo una situazione di debolezza, vedete, si è riportato nella situazione di forza. Quindi ha avuto proprio un'evoluzione tipica di questo indicatore, dove vi mostro adesso proprio l'evoluzione che ha seguito nel corso del tempo, vedete che si è piano piano rafforzato poco a poco che il mercato azionario si è mosso verso il basso. Quindi segno che probabilmente ci sono delle fughe di capitali verso i dollari che vengono ancora apparentemente da quello che stiamo vedendo vissuti come un bene rifugio. Quindi dollaro che tiene, e ve lo mostro subito per dare completezza a quello di cui stiamo parlando, dollaro che è in rialzo già da un po', ve lo mostro così perché ritengo interessante notare che qua abbiamo un rounded bottom, un minimo arrotondato come in gergo viene chiamato, che dura da un po' di tempo, che è stato rotto, questa è la figura dell'analisi tecnica classica, è stato rotto, ha fatto un bel pullback e adesso sembra direzionalmente di nuovo propenso a salire. Secondo me qui ci possiamo attendere un ulteriore rialzo, ci sono dei massimi da raggiungere, il dollar index potrà tranquillamente secondo me arrivare a 28 e poi potremmo aspettarcelo intorno ai 100 dollari. Quindi questa è un po' la sensazione, naturalmente specularmente ci possiamo attendere un movimento sull'euro dollaro perché il dollar index è una media delle varie valute rispetto al dollaro, però la maggior parte della media viene ricoperta dalla percentuale detenuta dall'euro, quindi abbiamo questa possibilità. Prima di passare a ulteriori aspetti, volevo farvi vedere in questa fase come il mercato in realtà stia dimostrando sempre di più la sua pericolosità e i suoi problemi insitivi. Li mostro adesso anche perché magari qualche giorno di ripresa potrebbero far pensare, potrebbe far pensare che la tempesta sia passata. Secondo me bisogna essere un po' più prudenti da questo punto di vista perché ritengo sia necessario verificare prima le condizioni per vedere se effettivamente il crollo è passato oppure se ci possono essere ulteriori gambe ribassiste, cose che da quello che io sto vedendo sembrano emergere. Allora la prima cosa che vi faccio vedere è questa, questo è un confronto tra il dollar index in nero, quindi il dollar index è questo grafico, scusate, il dollar index è questo in rosso e invece le azioni, tutte le azioni mondiali escluse le azioni statunitensi. Guardate questo indice che racchiude queste azioni come di fatto ha mostrato un'estrema sensibilità ai movimenti del dollaro. Più il dollaro sale, guardate la direzionalità del dollaro, più il dollaro sale più il movimento ribassista delle azioni extra usa è stato verso il basso, ok? Quindi c'è ancora questa tendenza e bisogna fare particolare attenzione a questo aspetto perché normalmente più il dollaro si apprezza più le azioni extra Stati Uniti tendono a performare male, quindi questo è un aspetto importante perché uno in periodi di questo tipo potrebbe essere tentato di considerare altri mercati rispetto a quello statunitense come mercati rifugio in cui probabilmente la performance potrebbe essere positiva ma così non è, così non è e se il dollaro continuerà ad attrarre capitali probabilmente continueremo a vedere dei ribassi da questo punto di vista. Entriamo nel dettaglio del perché penso che la situazione sia ancora mediamente critica e potrebbe aprire nuovamente dei movimenti ribassisti. Quello che vi mostro è un confronto tra varie capitalizzazioni del mercato americano, qui trovate un advanced decline line praticamente è semplicemente un indice che toglie da le azioni che salgono le azioni che scendono in modo da avere un'idea generale di performance positiva o diversamente nel caso in cui siano meno le azioni che salgono e più le azioni che scendono negativa. Quando la linea è posizionata a rialzo significa dire evidentemente che la maggior parte delle azioni sta salendo e invece poche azioni stanno scendendo. Quando la linea comincia a muoversi come sta facendo adesso verso il basso evidentemente sta a indicare che c'è una debolezza nel mercato. Ma non è solo questo il punto, qui troviamo proprio un confronto tra diverse capitalizzazioni. Queste sono le grandi capitalizzazioni, questo grafico che vi mostro adesso, queste sono delle aziende di media capitalizzazione e queste sono invece delle azioni che rappresentano aziende a bassa capitalizzazione. Guardate le aziende a bassa capitalizzazione come stanno performando male in questa fase, peggio perlomeno che il mercato nella sua media, d'accordo? Soprattutto se noi lo guardiamo rispetto allo standard report 500, soprattutto vedendo questi minimi che sono nel caso dello standard report 500, vedete ancora lievemente rialzisti qua, sono appaiati e stanno già votandosi verso il basso. Inoltre un'altra cosa interessante che possiamo immediatamente notare, vi tolgo un po' di segni dal grafico in modo che possiate vederlo in maniera migliore. Qui se vediamo soprattutto le linee dei massimi abbiamo ancora dei massimi a rialzo, qui abbiamo dei massimi a rialzo delle aziende a grandi capitalizzazioni, le aziende a media capitalizzazione ancora a rialzo e qui a rialzo, ma soprattutto quello che notiamo è un netto ribasso a partire da novembre per quanto riguarda le aziende a bassa capitalizzazione, cosa che invece per esempio nelle aziende a media capitalizzazione non è avvenuta. Perché guardare questo? Perché normalmente le aziende a bassa capitalizzazione sono molto sensibili ai top e ai bottom di mercato, significa dire che nei top di mercato le aziende a bassa capitalizzazione tendono a scendere immediatamente, più rapidamente, essere molto più sensibili e quindi in qualche modo preludono proprio le cadute di mercato, le preannunciano, mentre le aziende a bassa capitalizzazione anche nei momenti di bottom, cioè di minimi di mercato, tendono ad essere molto più reattive. Quindi nel caso in cui il mercato dovesse scendere e fare un minimo di mercato, probabilmente le aziende a bassa capitalizzazione saranno quelle da osservare perché saranno le più reattive, quelle che possiamo eventualmente andare a guardare per fare degli investimenti. Quindi questi aspetti io li ritengo fondamentali perché ci danno un po' la misura generale del mercato e come possiamo utilizzarlo per farci un'idea sulla salute generale delle varie aziende e quindi capire se possiamo investire eventualmente nel mercato. Questo è un altro indicatore a cui sono particolarmente legato perché lo ritengo particolarmente sensibile e interessante. Questo è un cosiddetto razio, cioè una divisione, è la stessa cosa sostanzialmente sono degli ETF che rappresentano il rapporto tra il tipico settore risk on, cioè di propensione a rischio come il settore del consumi discrezionali, diviso il tipico settore risk off come i consumi invece, vengono chiamati staples, quindi consumi primari. Anche in questo caso essendo un razio più i consumi discrezionali sono performanti e quindi il più c'è propensione a rischio, più il grafico sarà direzionato verso l'alto. Quando il grafico comincia a direzionarsi con swing discendenti evidentemente che cosa sta succedendo? C'è una fuga di capitali dai tipici settori di propensione a rischio per andare verso settori rifugi come i consumer staples. Questi settori sono principalmente settori come quello alimentare per esempio, ok? O diciamo dei beni di consumo primari, quelli che abbiamo imparato durante anche il periodo di lockdown a riconoscere bene, cioè i consumi che siamo immediatamente attirati a fare in quella fase e invece i consumi, per così dire, i consumi chiamiamoli discrezionali ma sono non primari o cosiddetto dei beni durevoli invece, come vengono anche chiamati in italiano, sono quei consumi di surplus. Quindi abbiamo fiducia nel futuro e tendiamo a a fare questo genere di acquisti come per esempio un tipico settore durevole e quello automotive, quindi tendiamo a comprare macchine per esempio quando siamo anche fiduciosi rispetto al futuro. Sono molti i settori appartenenti ai consumi durevoli. Quindi dicevo che in una fase ribassista come questa, come quello che stiamo osservando, c'è una fuga di denaro dai tipici settori di propensione a rischio e settori di avversione a rischio e questo ci dice ancora una volta che la media degli investitori sta fuggendo dal mercato a rischio perché ritiene il rischio che si corre nello stare dentro al mercato non sufficientemente ripagato dal rendimento. Quindi questo aspetto è un altro aspetto che bisogna considerare. Un ulteriore aspetto che vi ho mostrato qua in questa slide è quello di un enesimo razio, cioè tra lo Standard & Poor's 500, mercato azionario, e invece i bond statunitensi, Treasury Bond come vengono chiamati, a 7-10 anni. Ancora in questo caso c'è lo stesso meccanismo che vi ho citato prima. Se il mercato che stiamo vedendo, se il grafico di questo rapporto e a rialzo significa dire che c'è una fuga di capitali dai bond, cioè da un asset che viene riconosciuto come non troppo rischioso per andare a confluire verso lo Standard & Poor's 500 e quindi verso il mercato azionario che viene considerato sì rischioso ma anche redditizio. Nel momento in cui invece abbiamo un grafico che comincia per esempio a disegnare, come sta cominciando a disegnare adesso, dei minimi più bassi, dei minimi precedenti, vedete? Questo è un primo segno anche se non è ancora una situazione definitiva. In questo caso stiamo probabilmente assistendo, anche se in misura minima e nella situazione attuale, a una fuga di capitali dal mercato azionario per dirigersi verso asset che vengono riconosciuti come più sicuri. Naturalmente anche meno redditizi, ma più sicuri. Nel momento in cui gli investitori stanno nel mercato azionario sanno il rischio che corrono ma valutano questo rischio comunque valevole pur di fare delle performance che ritengono possibili. Nel momento in cui escono dal mercato azionario evidentemente ritengono che il rischio non vale, il gioco non vale più la candela e quindi vanno su asset meno rischiosi anche se meno redditizi. In questo caso, a differenza delle cose che abbiamo visto precedentemente, invece diciamo c'è un po' di fuga di capitali dal mercato azionario al mercato dei bond, ma non così pesante ancora secondo me. È evidente nel breve periodo che è avvenuto un travaso, per così dire, di liquidità dalle azioni alle obbligazioni. Ma il trend generale del mercato non è ancora così compromesso, quindi bisognerà vedere poi il mercato come si comporterà nel proseguo di questi giorni e eventualmente se questo razio sforerà anche questa media mobile al 200 periodo potremmo definitivamente ritenere che si stia effettivamente verificando una maggiore emorragia di liquidità dal mercato azionario. Questo è un po' il punto generale di una serie di indicatori che io utilizzo per farmi dire quelli che sono un pochettino gli orientamenti del mercato e come eventualmente dirigere le mie scelte di investimento. Quindi al momento mercato azionario no, anche perché, e vado poi a mostrarvi degli indici e delle situazioni ulteriori che penso possano essere interessanti da esaminare, anche perché se noi andiamo a vedere per esempio la totalità del mercato americano, per esempio dello Standard & Poor's 500 con una serie di settori, noi cosa notiamo? Vedete il classico grafico che vi ho mostrato poco fa. Ecco, guardate la mappa dei vari settori del mercato americano. Allora, innanzitutto troviamo in arancione il nostro benchmark, ok? È questo qua. Benchmark che ci dice che il mercato azionario nella sua media, nella totalità, è ribassista. Ma soprattutto stiamo notando questa cosa, stiamo notando che praticamente tutti i settori si trovano nel quadrante della debolezza. Anche i settori tipicamente difensivi, come sono questi che vi mostro adesso, guardate, eh? Ve li mostro subito. Allora, Utilities, che è un tipico settore difensivo. Le Utilities sono delle aziende di utilità pubblica, come aziende elettriche e dell'acqua. Eh, Consumer Staples è proprio quello che vi ho mostrato poco fa, cioè i consumi primari o detti anche beni non durevoli, ok? Vedete che si stanno dirigendo anche questi verso il quadrante eh della debolezza. Naturalmente sono un po' più indietro nella caduta, essendo dei beni rifugio, delle azioni rifugio, rispetto al tipico settore di propensione, a rischio, che è proprio i beni durevoli, quelli che abbiamo chiamato i discrezionali e i consumi eh non primari o delle tecnologie che sono un tipico settore rischiosissimo, estremamente eh profittevole ma molto rischioso. Vedete però la distanza eh tra questi due asset, la distanza è ancora ampia, nel senso che c'è ancora una separazione, un minimo di capitali tenuti ancora su questi asset c'è ma ritengo che ci sia comunque un movimento generale del mercato verso il basso. L'unico settore che tende a sopravvivere ancora è quello energetico, cioè tutte le azioni eh legate ad aziende che operano nell'energia, quindi petrolio eh gasoline e tutte e tutto il comparto, d'accordo? Quindi stiamo osservando questa struttura, tutto il mercato è praticamente diretto verso questa zona. Gli energetici sono diretti come direzione generale verso il basso ma sono ancora forti, quindi ritengo possibile ehm che gli energetici tengano ma nella nella totalità al mercato mi sembra si stia comportando in maniera molto molto omogenea. Ehm per vedere eventualmente proprio alla luce di questa cosa che vi ho fatto vedere adesso. Cosa ci possiamo attendere dai mercati azionari in questa fase eh in cui molti settori stanno performando male? Ehm innanzitutto teniamo presente che la tendenza stagionale dei mercati eh è molto negativa per quanto riguarda gennaio e tende a salire progressivamente tra febbraio e eh marzo. Guardate che eh febbraio, marzo, aprile sono dei mesi in cui i mercati tendono a performare molto bene. Quello che state vedendo è la performance, diciamo la percentuale di successo possibile negli ultimi vent'anni eh dello standard in pur cinquecento mensili. Vedete che avete i mesi qua sotto, vedete il mese di gennaio una percentuale di probabilità di chiudere positivo del quarantacinque per cento quindi veramente bassa eh febbraio una percentuale di base del sessantatré per cento di chiudere positivo marzo del sessantotto aprile dell'ottantaquattro quindi veramente stiamo ehm stiamo per affrontare perlomeno dei mesi diciamo ancora un mesetto eh se il mercato scenderà ma dei mesi che potrebbero rivelarsi poi positivi in prospettiva per arrivare eh comprando a febbraio febbraio marzo potremmo essere in tempo per prendere un bel movimento cosa che però al momento io non vedo ancora essendo ancora gennaio essendo una situazione ancora come quella che vi ho fatto vedere generale di analisi non la ritengo ancora eh propizia per un acquisto sull'azionario in particolare quella cosa di cui stavamo parlando poco fa e cioè la ripartizione dei vari settori ehm all'interno degli indici e come si stanno comportando i settori ci dice automaticamente che è molto improbabile che lo standard in pur 500 se settori come i tecnologie i consumi discrezionali che vi ricordo un tipico settore di riscon quindi di propensione a rischio non performano è molto difficile che il mercato performi guardate comunicazioni finanziari industriali questi sono tutti tutti settori di ehm propensione a rischio difensivi sono invece ve li indico in verde sono questo che è il tanker cioè tutto il comparto sanitario i consumer staples che sono minoritari all'interno dello standard in pur 500 e le utilities che sono ancora ancora eh a minore impatto nello standard in pur 500 è assolutamente impossibile che eh i settori difensivi riescano a tenere su l'indice standard in pur 500 hanno bisogno eh questi indici così composti dell'apporto di tipici settori di propensione a rischio non so se sono riuscito ad essere chiaro Luciano su questo aspetto è stato chiarissimo Daniele complimenti per la ricchezza d'analisi e per la varietà di strumenti da te attenzionati come ormai si dice in gergo sì Daniele prego no no concludo solo dicendo che la composizione la composizione non è solo dello standard in pur 500 così pesata verso settori aggressivi per così dire d'accordo cioè nel Nasdaq che vi ricordo racchiude i premi 100 titoli per capitalizzazione del mercato americano esclusi quelli finanziari quindi qua non ci sono i finanziari dentro guardate la composizione ancora una volta stiamo parlando prevalentemente eh del di tecnologie guardate eh stiamo parlando di media entertainment software and services eh retailing ancora di questi sono i consumi discrezionali tecnologie semiconduttori praticamente facciamo per la maggior parte eh facciamo eh tutti i settori di propensione a rischio c'è una minima parte che sono questi che vi mostro adesso con questa forbice questa qua scusate questa forbice qua questi sono i settori difensivi allora evidente che quando i settori difensivi pesano per il 10 12 per cento di un indice difficile che quell'indice in caso di caduta riesca a reggere infatti va da sé che il Nasdaq è il peggiore tra gli indici americani in questo ultimo periodo e in particolare va bene qui c'è vi ho mostrato così giusto perché lo sappiate eh una grandissima partecipazione da parte eh di pochissimi titoli alla composizione di tutto il Nasdaq guardate eh 51 per cento tutti i titoli e invece 12 per cento Apple 11 per cento Microsoft pesa 11 per cento Amazon 76 Google Facebook che non si chiama più Facebook ma non importa mi piace continuare a chiamarlo così 4 e 2 e 2 e 7 Tesla qui stiamo facendo il 49 per cento eh con sei titoli è evidente che è dipendente il Nasdaq da questi e questi non sono nessuno di essi e sono titoli difensivi sono tutti i titoli o tecnologici o eh di consumi discrezionali come per esempio li chiamo discrezionali per una traduzione letterale dall'inglese ma se volete cercarli eh sui vari blog sui vari eh siti in italiano sono consumi direvoli direvoli Tesla fa parte dei consumi direvoli evidentemente eh non ci sono eh difensivi all'interno di questa struttura concludo con i settori del Dow Jones average eh che invece qualche percentuale in più ce l'ha perché nonostante in generale abbia comunque una grande composizione eh di di elementi rischiosi eh i tecnologici non pesano per il massimo eh per il più grande settore cosa che ha come avete visto avviene sia nel Nasdaq che nello standard in pur 500 d'accordo eh però comunque anche in questo caso eh c'è una grande partecipazione da parte di settori eh di propensione a rischio vedete finanziari anche ok qui però il secondo settore per importanza è l'health and care quindi eh nel settore della sanità quindi eh in qualche modo un po' più di di resilienza alla caduta ce l'ha in in più se ci aggiungiamo anche eh i consumer staples che sono appunto i consumi primari insieme questi questi due settori fanno il 25 per cento un quarto dell'indice beh un pochettino di resistenza alla caduta c'è eh se aggiungiamo anche gli energetici che in questo momento stanno reggendo ancora bene arriviamo quasi al 20 per cento va da sé che in queste fasi forse il Dow Jones Average è una delle migliori scelte eh possibili ehm per il resto io credo che siamo abbastanza in una situazione in cui alcuni settori eh sono da evitare e alcuni indici sono da evitare se c'è ancora un attimo di tempo prima delle domande o degli interventi di Luciano volevo fare solo farvi vedere questo eh modello di rotazione settoriale che può essere interessante se ve lo salvate se vi fate delle riflessioni allora questo è un bellissimo schema eh che è stato ripreso poi successivamente da Joe Marfio ma originariamente eh è di Sam Sam Stovall eh un bellissimo un bellissimo libro ehm credo edito dalla Goldman dalla Goldman Sachs se non sbaglio ehm in cui eh andava un po' a teorizzare quelli che erano i modelli di rotazione settoriale questo è interessante perché in realtà il ciclo verde che vedete qua rappresentato questa linea qua rappresenta il ciclo economico invece il l'andamento sinusoidale che troviamo in rosso è l'andamento del mercato eh azionario vedete che sono sfasati c'è uno sfasamento che va tra gli otto e dodici mesi quindi ecco perché si dice che i mercati azionari tendono ad anticipare quelli che sono i cicli economici ma soprattutto ci dà delle indicazioni interessanti nei market top guardate un po' durante i top di mercato alcuni settori sono più performanti di altri nei momenti di discesa quindi quando il mercato azionario scende vedete questa linea in trasparenza scende alcuni settori sono più eh performanti di altri sono proprio quei tre settori di cui continuiamo a parlare ehm in questo in questo intervento cioè i consumi primari gli staples le utilities le aziende di utilità pubblica e gli health and care ok questo è il principio per cui questi sono dei degli asset rifugio anche perché pagano dei dividendi alti soprattutto gli staples le utilities e gli health and care no ehm da questo punto di vista se noi andiamo a riconoscere nelle performance la situazione attuale eh vi faccio vedere e poi mi dite voi se minimo sospetto di peredicosità non non vi viene allora guardate quali sono i settori che stanno performando meglio di altri anche se non stanno performando bene troviamo gli energetici e gli staples che stanno eh diciamo nella parte un po' più alta di questo di questo di questo riquadro andiamo a vedere nuovamente cosa ci mostra qua energetici e stefos quindi l'idea secondo me è che qua siamo probabilmente a un top di mercato ora io non so quanto sia un top che poi va ad avere una ricaduta sulla sull'economia reale perché effettivamente ci sono degli apporti di liquidità nell'economia reale che possono in qualche modo sovvertire la situazione però eh degli elementi di pericolosità a mio parere ci sono e delle corrispondenze rispetto a questo schema che non deve essere visto come rigido evidentemente ma gli energetici nella parte alta del mercato ci stanno ci sta una inflazione alta infatti si parla già di interventi eh per cui siamo in una situazione di questo tipo eh almeno indicativamente sarà eh interessante vedere il proseguo quindi in questa fase gli energetici possono essere sfruttati per fare delle performance eh diversamente vedremo poi nella seconda parte del webinar dove si può andare a investire è una delle scelte principali eh è emersa subito dalla prima schermata che vi ho mostrato nell'intervento in cui vi ho fatto vedere chiaramente eh che le commodities sono eh l'unico gruppo che sta resistendo a questa caduta ora eh è discendente un pochettino questo andamento però eh vedrete che ci sono delle commodities che stanno rendendo benissimo assolutamente bene e probabilmente varrà la pena andare a investire su queste non so se ci sono domande Luciano. Perfetto Daniele allora le domande ci sono ma io direi di rimandarle alla seconda parte di questo webinar io intanto volevo complimentarmi con te anche a nome di tutti i partecipanti a questa sessione la tua disamina Daniele confermo ulteriormente l'eccezione l'eccezionalità della tua competenza competenza di cui possono godere gli abbonati ai quattro portafogli e questo è il lavoro che c'è dietro ogni segnale operativo da te inoltrato agli abbonati un lavoro certosino di qualità eccellente allora Daniele io ti chiederei quindi a questo punto di di addentrarci in quello che è il servizio e mostrarci se puoi eh in che modo si traduce in termini monetari questa tua competenza questa tua bravura quindi quali sono i risultati dei quattro portafogli di cui parleremo diffusamente nella seconda parte di questo webinar allora i risultati sono sono questi ve li mostro nel corso degli anni allora innanzitutto qui stiamo parlando di eh un capitale investito di diecimila euro con un rischio del cinque per cento per singola operazione rischio massimo del cinque per cento per singola operazione ciò significa dire eh fare ehm nel 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 proprio calcolo un dieci per cento cinquecento euro eh in potenziale perdita per ogni singola operazione del del servizio portafogli eh diciamo i servizi hanno hanno avuto degli esplano molto importanti duemiladiciannove duemilaventi soprattutto nel duemilaventi nonostante il crollo importante che c'è stato eh ci ha consentito essendo completamente scarichi di portafoglio eh di fare delle performance importanti l'anno scorso è stato un anno piuttosto complicato perché i mercati sono sempre stati molto alti abbiamo sempre investito meno che gli anni scorsi perché proprio la paura di crolli importanti c'è stata eh le performance sono state prevalentemente sul mercato azionario eh e poi grazie anche a qualche buon colpo su eh le criptovalute e ehm commodities abbiamo anche retto un po' l'urto della difficoltà che si respira sul mercato azionario da un po' di tempo a questa parte questa grande liquidità questa grande volatilità scusate da inizio anno abbiamo messo già un'operazione sulle commodities che vi farò vedere tra un po' tra poco eh siamo per il momento al cinque per cento anzi spero che eh di oggi in questi giorni possiamo ehm crescere con questa performance grazie attraverso proprio le eh commodities che in questa fase mi sembra che possano darci un buono spunto ehm le operazioni non sono molte quindi non è un servizio basato su dare operazioni cinque dieci operazioni al mese le operazioni sono quanto basta si tirano più possibile cioè c'è un buon eh rischio rischio rendimento si cerca di spingere l'operazione più possibile per ottenere più risultato possibile eh dalla da un singolo asset questo è un po' il principio eh vi faccio vedere l'anno scorso che è stato un anno molto molto complicato lo vedrete dallo dallo schema eh chiaramente nei momenti in cui abbiamo potuto rendere far rendere il capitale noi cerchiamo sempre di farlo ehm cercando di fare il lavoro al meglio quando non è possibile far rendere il capitale ci accorgiamo che il mercato è particolarmente pericoloso cerchiamo di ehm rivedere un attimo l'operatività e attendere momenti diversi infatti ricorderai Luciano che in alcuni momenti abbiamo anche eh bloccato gli abbonamenti per un paio di settimane per evitare proprio eh di far perdere giorni importanti a agli abbonati ma allo stesso tempo eh essere forzati a dare operazioni quando il mercato non ce le chiama le operazioni e non le ha perché eh in questa fase eh anche se ci sono momenti di difficoltà se uno arriva ancora lucido e con il capitale pronto nei momenti in cui il mercato eh finirà di scendere ci sono delle belle opportunità secondo me di fare profitti certo 2019 192 per cento 2020 182 per cento ci tengo a evidenziare il fatto che il 55 per cento comunque vuol dire quattro il quattro virgola cinque per cento mensile per dodici mesi e ora abbiamo già iniziato il duemila e ventidue con un bel cinque per cento e il mese non si è ancora concluso ecco i risultati della tua metodologia e della tua professionalità e della tua bravura io mi riprendo il controllo dello schermo perché questo è il primo anno in cui il primo il primo webinar che facciamo in quest'anno dei quattro portafogli e quindi c'è una promozione esclusiva promozione di inizio anno per i quattro portafogli vi basterà inviare un whatsapp o un sms al numero tre due zero otto sette cinque sei quattro 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 con scritto quattro portafogli del dottor daniele la vecchia anche laddove aveste bisogno di informazioni un whatsapp o un sms al tre due zero otto sette cinque sei quattro 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 è una promozione di inizio anno quindi non ci sarà più durante l'anno una promozione del genere allora daniele in questa seconda parte del webinar quindi ti pregherei di mostrarci dettagliatamente in cosa consiste il servizio qual è la metodologia come viene erogato poi di volta in volta ti porrò le domande ti assegno quindi nuovamente il controllo dello schermo ok vi mostro un esempio di un'operazione aperta questo è il modo in cui decidiamo di posizionare le operazioni io mando normalmente una schermata con un'immagine e una descrizione la descrizione è breve riguarda il punto d'ingresso lo stop loss e target potenziali questa è una operazione aperta il 19 di gennaio un'operazione su l'olio di soia con scadenza marzo e anche ultimamente stiamo proprio per dare la massima fruibilità a tutti adesso vi farò vedere anche dando le tf corrispettivo per entrare d'accordo e in questo caso abbiamo dato un wisdom tree o quotato su londra o quotato su milano che adesso vi faccio vedere allora in questo senso vedete lo stop loss viene posizionato sotto un'area di minimo semplicemente l'apertura è avvenuta al superamento di quest'area adesso siamo su quello che ho definito il primo target io naturalmente do delle indicazioni molto precise rispetto al mio personale comportamento quello che consiglio di fare poi ovviamente gli investitori sono sempre liberi di fare quello che decidono perché questo è un servizio comunque massimalmente discrezionale anche da parte dei di alcuni eh di degli investitori io eh in questo senso non ho chiuso l'operazione eh al target uno dove vedete qua ma sto eh aspettando per vedere se verrà superato questo livello di resistenza per puntare al target due che è un settantasei dollari eh nel frattempo soprattutto dati i movimenti di mercato piuttosto difficili eh in questa fase ho fatto spostare lo stop al di sotto di questo minimo vedete questa questa linea e in questo modo abbiamo comunque bloccato la nostra performance essendo in questo caso è un 5 per cento di rischio rendimento di renditi di perdita per l'account quindi se avete messo diecimila euro generalmente nell'account qui ci stanno cinquecento euro eh di potenziale perdita in questo momento siamo a cinquecento euro di profitto e abbiamo bloccato duecentocinquanta euro eh questo per proprio vedere se il mercato avrà la forza di salire oltre se mi accorgo che così non sarà la chiuderemo e eh finiremo così l'operazione naturalmente questo genere di operazioni ehm hanno dei parametri molto precisi come lo stop l'apertura e la chiusura gli stop non vengono mai spostati in perdita ok quindi non ci sarà mai un'operazione in cui darò lo stop da togliere o lo stop da riaprire si accetta quello che il mercato da evidentemente l'anno scorso è stato un anno più difficile eh ci sono dei momenti più facili momenti dove tutto viene viene benissimo eh ma eh questo è un investimento che ha due caratteristiche ed è quella credo eh dell'onestà rispetto a al alla volontà di darvi un servizio al meglio delle nostre possibilità quindi attraverso delle analisi attraverso uno studio e poi con coscienza cercare di entrare al mercato solo quando siamo sicuri che potenzialmente ci possano essere delle probabilità buone di avere profitti eh da questo punto di vista eh è per questo che non togliamo lo stop perché limitiamo il danno naturalmente in alcuni casi eh aver tolto lo stop eh a post a posteriore avrebbe portato naturalmente eh dei profitti perché magari ha preso lo stop e poi è andato in direzione ma non è questo che ci interessa fare a noi interessa stare con una logica che sia sempre la stessa di cui vi possiate fidare quindi da un da un certo punto di vista eh naturalmente siete voi e come sempre eseguire le operazioni ed è da questo punto di vista discrezionale nel consiglio ci sono due due direzioni che seguiamo nei consigli chiediamo di investimento la prima è fare del profitto ma la prima ancora quindi la prima prima è non perdere quindi cercare sempre di limitare il rischio a meno possibile eh perché eh i mercati sono diventati particolarmente pericolosi non è adesso che lo sono pericolosi lo sono già da qualche anno sono molto volatili molto violenti nei movimenti e molto rapidi nei cambiamenti eh quello che noi evidentemente possiamo vedere tecnicamente lo vediamo quello che va oltre la possibilità di vederlo evidentemente non ci è consentito vederlo e per cui dobbiamo proteggerci attraverso un money management corretto e un risk management corretto quindi non mettete troppo come diciamo sempre il il 5% dell'account per singola operazione è il massimo eh rischio che noi vi consigliamo di correre se volete mettere il 2% va altrettanto bene in fondo l'anno scorso eh diciamo c'era un 55% di rendimento finale perfetto se avessimo fatto attraverso un due due e mezzo per cento quindi la metà del rischio se avessimo fatto un 23% sarebbe stato un problema se l'anno prima al posto del che è andato molto bene abbiamo visto il 180 per cento se al posto del 180 per cento avessimo fatto la metà sarebbe stato un problema 90 per cento se avessimo fatto ancora la metà della metà al 45 per cento sarebbe stato un problema quello che cerchiamo di fare è dare del rendimento cercando di moderare il rischio più possibile eh naturalmente per quello che è la nostra parte per quello che è la vostra parte eh vi consigliamo di seguire questa questa diciamo filosofia questa modalità di moderazione del rischio eh alla lettere quindi di non rischiare troppo non pensare come magari vedete che dei risultati ci sono che eh io non sbagli mai che non si sbagli mai in questo mestiere che tecnicamente le cose vanno sempre bene perché non è così non funziona così eh se un'operazione poi è troppo pesante magari sono è quella serie di operazioni che non va bene e quindi rischia di pesare troppo nel computo finale quindi questo è un po' il consiglio che vi do eh generalmente perché molti molti poi magari mi scrivono che hanno seguito alcune indicazioni eh e gli sono state utili quindi questa è l'indicazione che vi riporto anche dai feedback che mi date voi hai perfettamente ragione Daniele inoltre il servizio oltre a fornire dei segnali completi di tutto come hai detto tu stesso ha mh anche uno scopo didattico pertanto l'abbonato non solo riceve il segnale ma riceve anche una descrizione esaustiva le tue considerazioni un video ogni due settimane giusto è così? Sì circa ogni due settimane c'è un video in cui faccio una un esame dei mercati eh per gli abbonati eh quindi descrivo come vedo il mercato i problemi le cose le opportunità che possono nascere evidentemente se posso segnalare anche delle situazioni che l'abbonato può prendere anche eh da solo magari non segnalerò perché abbiamo già il portafoglio con alcune situazioni e e comunque anche nell'esamina eh discorsiva e tramite video delle operazioni che abbiamo aperte a mercato che può aiutare molto a chiarire alcuni aspetti soprattutto in questo in questo periodo dove magari eh durante una settimana eh ci sono parecchie situazioni di tensione da parte degli investitori eh il video può essere una veramente una una qualcosa di di utile quindi un contributo davvero un contributo davvero molto prezioso come lo definiscono gli abbonati dei quattro portafogli allora per i prossimi abbonati per tutti coloro che hanno manifestato già grande interesse per i quattro portafogli capitale minimo indispensabile per seguire il servizio? Allora diciamo che se non fate se fate tutte diciamo al contrario se fate tutto servono un diecimila euro perché eh le commodities hanno dei dei margini e via dicendo eh anche se poi come vi dicevo adesso tra l'altro mi hai fatto fatto bene a ricordarmelo vi mostro per esempio l'etf che abbiamo segnalato eh vedete questo l'etf vedete che è molto simile a quello che abbiamo visto nella nella situazione precedente con uno stop qua così eh in questo caso evidentemente dipende se le vostre piattaforme eh ce l'hanno in generale eh è abbastanza facile trovare tutto su una qualsiasi piattaforma o broker o bancaria ok perché le le situazioni che vi segnaliamo hanno questa questa particolarità laddove appunto per evitare magari chi non può investire in future o una piattaforma adibita a future eh proprio su questo su questo tipo di asset abbiamo scelto anche di selezionare eh degli degli etf in questo caso sono etici che possano replicare in maniera più o meno fedele il l'andamento del del sottostante. Certo per amor della completezza Daniele specifichiamo anche quali sono i quattro portafogli ovvero portafoglio Forex, portafoglio azionario, commodities e portafoglio cripto il nuovo arrivato l'ultimo portafoglio. Attraverso i quattro portafogli tu sei tu riesci ad operare una diversificazione impeccabile ed ecco perché ehm è questa la combinazione vincente del servizio giusto? Sì proprio per rispetto a quello che vi ho mostrato fino a poco fa e cioè vedete una mappa di questo tipo in cui abbiamo alcune cose che rendono altre che è difficile far rendere ehm naturalmente è necessario cambiare completamente ambito per poter avere delle situazioni che si stacchino e differenzino e diversificano davvero. L'idea è diversificare davvero non sentirsi appagati dal fatto di prendere degli strumenti diversi ma avere delle decorrelazioni tra strumenti. Questa è la difficoltà che si sta riscontrando. Su questo aspetto ti volevo anche citare questa cosa che è diventata particolarmente interessante. Noi abbiamo introdotto le le criptovalute. Abbiamo fatto una bella operazione sul Bitcoin ehm ad agosto eh un'operazione che ha portato ehm ci ha portato da partire da eh 41.000 dollari l'abbiamo chiusa se non sbaglio a 60.000 dollari quindi abbiamo preso questo movimento da questa barra qui dal 5 agosto l'abbiamo chiusa intorno al 17 ottobre. Abbiamo fatto una buona performance ehm lo sappiamo che è molto volatile il Bitcoin una performance del circa il 50 per cento. Ma la cosa che volevo farvi notare del perché noi abbiamo bisogno di molti asset tra cui appunto abbiamo le commodities il forex le azioni e le cripto è che eh abbiamo notato nel corso degli ultimi tempi che le criptovalute si stanno muovendo come il mercato azionario ma esattamente come mercato azionario eh è apparso anche nel frattempo vi faccio vedere questa cosa che vi ho detto adesso non so potrebbe credo sia abbastanza di interesse per tutti eh a considerare ehm il fatto che eh le criptovalute abbiamo pensate un po' come diversificazione eh ma di fatto in alcuni momenti ci aiutano a fare più performance nel mercato azionario e in altri momenti invece dobbiamo un po' tralasciarle perché sembrano abbastanza eh simili vi mostro guardate credo sia interessante da vedere questo è un coefficiente di correlazione questo qua sotto vedete che quando è positivo è alto significa dire che il mercato azionario si sta muovendo insieme al bitcoin per esempio vedete che praticamente tranne brevi periodi si muove sempre in quasi in correlazione nell'ultimo periodo con il mercato azionario quindi criptovalute e mercato azionario si muovono molto insieme le criptovalute sono più volatili e danno dei bei risultati anche il Wall Street Journal eh nell'inserto di questo weekend segnalava proprio questo fatto che molti studiosi hanno notato questa correlazione fortissima tra i due mercati quindi probabilmente eh e si sta normalizzando un pochettino anche la situazione delle criptovalute e piano piano magari riusciremo a fare un po' più di ingressi sulle criptovalute che quest'anno abbiamo fatto poco perché sono davvero molto violente perché preferiamo prendere la perla per cercare di fare il movimento piuttosto che andare a prenderne troppe rischiando eh sì quanto quanto approfondite e scrupolose sono le tue analisi Daniele davvero complimenti complimenti da parte mia di tutti i partecipanti allora i quattro portafogli come detto nella prima metà di questo webinar sono in promozione esclusiva una promozione di inizio anno quindi unica e ripetibile vi basterà inviare un whatsapp o un sms al numero tre due zero otto sette cinque sei quattro 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 con scritto promo quattro portafogli anche per informazioni tre due zero otto sette cinque sei quattro 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 è un servizio davvero unico e imperdibile quello dei quattro portafogli ed è grazie all'autore se riusciamo ad ottenere tanta soddisfazione e grandi grandissimi risultati io ti ringrazio immensamente Daniele grazie a te Luciano grazie dell'invito e grazie a tutti voi che avete ascoltato il webinar è sempre un onore per me grazie mille a te e grazie mille a tutti i partecipanti una buona giornata grazie arrivederci a tutti